cari amici di fano tv buonasera e ben trovati questo è il secondo approfondimento dedicato al centro studi vitruviani questa sera nello specifico entreremo meglio nella figura di vitruvio e lo facciamo con il coordinatore scientifico il professor oscar mei buonasera 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 a tutti allora io direi di riprendere un po da dove c'eravamo lasciati nella puntata precedente dino zachilli da appassionato diciamo dell'opera vitruviana ha espresso il suo parere sul de architettura che rimane il testo guida del rinascimento unico testo pervenuto integralmente dedicato all'architettura tutto in latino è stato tradotto in italiano mi dei 521 allora il parere dell'esperto insomma da professore che cosa può dirci sul de architettura si vitruvio è una delle personalità più importanti che si sono giunte dall'antichità come diceva prima ha scritto l'unico trattato antico che ci è prevenuto completo dell'antichità appunto di architettura un volume in dieci libri che tratta di architettura ma anche di altri argomenti come la meccanica all'idraulica e anche perché vitruvio ha una ha un passato importante cioè prima di scrivere il suo trattato che scrive in un periodo che potremmo definire di ritiro dalla vita dalla vita professionale tra il 30 e il 20 circa avanti cristo ecco dicevo prima di scrivere il suo trattato di architettura vitruvio aveva servito come ingegnere militare con sotto giulio cesare quindi nelle campagne probabilmente nelle campagne di gallia e si era formato con la sua attività professionale in particolare e in pensione diciamo comincia a scrivere questo trattato che si può dire da una parte il compendio di tutto il sapere architettonico di età ellenistica quindi dei secoli precedenti dal terzo secolo al secondo secolo avanti cristo e con anche delle delle novità delle novità architettoniche e sicuramente la l'innovazione più importante dal punto di vista dell'architettura romana e anche greca che abbiamo nell'architettura è la il progetto della basilica di fano la basilica della colonia julia fan estris e di cui parlerò anche più avanti e diciamo che vitruvio aveva avuto una grandissima importanza nel suo nella sua epoca quindi nel alla fine del primo secolo avanti cristo e è stato influenzato da molti trattatisti della sua epoca architetti come per esempio barrone e influenzerà moltissimo anche i successivi i successivi studiosi di architettura architetti successivi scrittori anche ritrattati in età romana come per esempio primio al vecchio che cita vitruvio più volte ma vitruvio è molto importante anche perché ha influenzato la cultura potremmo dire non solo l'architettura la cultura del mondiale dal rinascimento in poi riscoperto il suo testo infatti nel quindicesimo secolo viene tradotto in italiano come si diceva prima nel nel cinquecento e ha influenzato i più grandi i più grandi esponenti del rinascimento pensiamo a leonardo leonardo che come si vede dal disegno alle mie spalle leonardo crea questo questa immagine dell'uomo vitruviano quindi l'uomo le proporzioni esatte perfette dell'uomo che lui appunto eredita da vitruvio l'uomo che è iscritto in un cerchio in un quadrato quindi da una parte il cerchio che rappresenta il cielo la perfezione divina il quadrato che rappresenta invece invece la terra e francesco di giorgio martini che aveva cominciato ad occuparsi del trattato di vitruvio che probabilmente lui che influenza leonardo e poi non dimentichiamo il principe degli architetti si può dire che palladio che anche lui ha influenzato in maniera pesantissima da vitruvio e il ruolo di vitruvio l'immagine di vitruvio è una il trattato di vitruvio si perpetua poi nei secoli fino ad arrivare appunto all'oggi quindi alla nostra contemporaneità e come dicevo prima vitruvio era un ingegnere architetto ingegnere faceva parte probabilmente era un perfectus fabrum probabilmente quindi faceva parte del genio militare e scrive negli anni venti del primo secolo avanti cristo quindi agli inizi del principato augusteo e dedica la sua opera direttamente all'imparatore al primo imparatore quindi ottaviano ottaviano augusto ed era legato a ottavia alla sorella di augusto a proposito dell'influenza di vitruvio ecco diciamo che il suo influsso nello spazio e nel tempo hanno avuto un peso forse più del periodo stesso in cui vitruvio viveva perché l'architettura romana era proprio in evoluzione con l'introduzione del laterizio con l'utilizzo di cupole e volte è corretto dire questo insomma che l'influsso di vitruvio si fa sentire nel tempo forse più che nella realtà stessa che stava vivendo certamente questo sicuramente come dicevo prima vitruvio è un diciamo che è un un trattatista che descrive nella sua opera l'architettura che c'era stata anche prima di lui quindi lui scrive alla fine del primo secolo avanti cristo e per esempio ovviamente per ragioni anche cronologiche non conosce molti edifici famosissimi di età romana che saranno poi costruite successivamente ad esempio primo fra tutti il colosseo oppure il lo stesso pantheon che ancora non esisteva non esisteva soprattutto come lo vediamo noi oggi perché del secondo secolo dopo cristo comunque lui è un è un come potremmo dire un trattatista che raccoglie il sapere architettonico di età lenistica quindi precedenti a lui e il suo sapere lo vuole offrire ad augusto in prima persona ma poi a tutti i magistrati a tutti gli uomini politici che nel suo periodo si devono occupare di urbanistica e di architettura e offre potremmo dire quello che per lui era la perfezione quindi la perfezione nella formazione delle città la perfezione nella struttura degli edifici e soprattutto vitruvio sicuramente non era consapevole dell'enorme successo che avrebbe avuto nei secoli successivi anche non era consapevole neanche del fatto che sarebbe stato l'unico trattatista che la cui opera si sarebbe tramandata nei secoli anche in questo sta la forza di vitruvio e anche in questo sta il motivo per cui vitruvio ovviamente ha avuto una fama e un'influenza come dicevo prima un'influenza importantissima non solo nell'architettura ma anche nella cultura nella letteratura potremmo dire a partire dal rinascimento fino sicuramente ai giorni nostri. La città di Fano respira abbondantemente vitruvio dove lo ritroviamo? Parliamo non so della basilica per esempio. Sì è anche il motivo per cui il centro studio vitruviani nasce a Fano. Vitruvio sappiamo che è stato legato a Fano sicuramente sicuramente è stato a Fano. C'è anche uno studio recentissimo che come centro studio vitruviani pubblicheremo a breve del professor Lorenzo Braccesi di una sua allieva su il gentilizio Vitruvio, cioè sul nome Vitruvius. Noi di Vitruvio sappiamo con sicurezza solamente appunto il nome, il gentilizio Vitruvius. Marco, Marcus è un'ipotesi, non sappiamo veramente con sicurezza se si chiamasse Marco. Pollione è ancora più incerto, anzi molto probabilmente questo nome Pollione in realtà è il nome della tribù a cui apparteneva Vitruvio che è la tribù Poglia. Ecco grazie a questa intuizione diciamo che non è recentissima ma già se ne parlava nei decenni passati, si è giunti ad avere degli indizi fortissimi, quindi un'altissima probabilità che Vitruvio fosse stato almeno in un certo periodo cittadino fanese. Non sappiamo se è nato a Fano. Quindi non fanese ma fanese d'adozione. Mi sentirei di dire di dirlo con sicurezza perché l'unico edificio che Vitruvio dice di aver progettato e costruito nel suo trattato è appunto la basilica della colonia Iulia Fanestris, quindi la basilica di Fano e questo è il motivo per cui il centro studio di Vitruviani nasce nella città di Fano. Dedica moltissimo spazio del suo trattato Vitruvio alla descrizione della basilica e ci dà delle indicazioni molto precise sulla forma, sulla pianta, sull'alzato della basilica ed era una struttura veramente imponente. Pensate che le colonne, capitello compreso, erano alte 15 metri e il diametro di base delle colonne era di un metro e mezzo. Quindi si tratta di una struttura enorme, potremmo dire, e non solo ci dice che costruisce questa basilica, ci dice anche la posizione, quindi nel foro della città, e dice che di fronte alla basilica c'era il Tempio di Giove. Quindi ci dà, in un certo senso, anche delle informazioni urbanistiche molto importanti sulla pianta del centro di Fano in Fortuna. E la basilica di Fano è ovviamente nota in tutto il mondo, da tutti gli studiosi di archeologia e di architettura a livello internazionale e, come ovviamente tutti sanno, è stata cercata a Fano, nella realtà archeologica di Fano, per secoli. Anzi, si è creduto di averla trovata nell'Ottocento e anche nel secolo passato, almeno nella prima metà del Novecento, si è creduto di averla individuata nell'area archeologica di Sant'Agostino, perché alcune misure tornavano, diciamo, con le misure che Vitruvio stesso ci dà nella sua opera. Poi il progredire degli studi ha, diciamo, ha smentito questa ipotesi, anche se molte affermazioni di Vitruvio sulla basilica coincidono con quello che c'è sotto Sant'Agostino. Ecco, noi non sappiamo in realtà oggi dove si trova la basilica fanese, quindi resti archeologici. Certo è che ci impegneremo anche nel cercare una risposta a questo enigma, a questo mistero che ormai ha travalicato i secoli. Certo che forse bisogna rivalutare anche i resti che sono stati rinvenuti in passato, quindi cercare di capirli anche attraverso un'altra prospettiva. Sicuramente la struttura che c'è sotto Sant'Agostino è una struttura, perlomeno nella sua fase iniziale, che si data all'età augustea e quindi è contemporanea ad Augusto e contemporanea a Vitruvio. E certamente un'ipotesi molto forte, che ha un grandissimo fondamento, è che Vitruvio possa aver partecipato alla fondazione stessa della colonia di Fano e quindi alla pianificazione del piano urbanistico di Fano in Fortuna e anche, perché no, alla costruzione dei principali monumenti come le mura che sono state completate nel 9 d.C., però riportano diversi precetti vitruviani, quindi quello che troviamo nel trattato che riguarda le mura delle città. E le mura di Fano insieme alla porta di Augusto sono tra i resti archeologici più importanti di età romana che abbiamo, mi sentirei di dire, in Italia, sicuramente, perlomeno per quanto riguarda il circuito delle mura e la porta d'accesso alla città. Quindi, fanese o no, alla nostra città ha lasciato un'impronta, insomma, non da poco, e quindi è giusto far respirare ai fanesi e a tutti coloro che vorranno, ecco, questa quest'area vitruviana, mi piace chiamarla e definirla così. Certo, io dico sempre, mi piace dire che Vitruvio, questo cittadino, probabile cittadino fanese di 2.000 anni fa, deve parlare anche ai fanestres di oggi, quindi i cittadini fanesi attuali, i cittadini fanesi devono sentire questo legame fortissimo con Vitruvio, perché è dappertutto. Appena si fa una passeggiata nel centro di Fano, la romanità esce dagli incroci delle strade, possiamo dire, e quindi anche questo, e anche dalla regolarità della pianta di Fano, e quindi l'anima di Vitruvio sicuramente è in tutta la città. Bene, se nella puntata precedente abbiamo fatto uno scursus dei 10 anni del centro studi vitruviani, con lei invece vorrei vedere e capire quali sono i progetti futuri. Sì, io sono stato nominato coordinatore scientifico del centro studio vitruviani da pochi mesi e nei nostri piani c'è un rilancio del centro studio vitruviani a livello nazionale, locale, nazionale ed anche internazionale. Infatti uno dei primi progetti che ho intrapreso è quello della ricostruzione del comitato scientifico, quindi ho cercato di ricostruire il comitato che è stato ampliato e ci sono alcune conferme e anche importanti novità. Molti hanno accettato di continuare a far parte del centro studio vitruviani, faccio qualche nome, c'è per esempio Pierre Gros, francese, che si può dire che sia il massimo esperto di vitruvio nel mondo. Poi c'è Francesco Paolo Di Teodoro, Wern Rixlin, poi ancora Ingrid Roland, poi ci sono però anche archeologi come Eugenio La Rocca, che è accademico dei lincei, come Alessandro Viscogliosi della Sapienza di Roma, che insieme a Di Teodoro ha curato la mostra di Raffaello Le Scuderie del Quarinale. Poi abbiamo l'ingresso di una latinista che mancava in precedenza per appunto aiutarci nella ricostruzione del latino di Vitruvio, Elisa Romano dell'Università di Pavia. Giovanni Carbonara, che è considerato il padre della moderna teoria del restauro. E poi altri importanti personaggi come Antonio Monterroso, che ha lavorato a Fano, è conosciuto a Fano, dell'Università di Cordoba, che si è occupato di teatri romani. Quindi è un comitato scientifico molto importante, che sono sicuro potrà portare nuova forza al centro studio di Vitruviani. E allo stesso tempo abbiamo cercato di definire un programma dell'attività dei prossimi anni. E innanzitutto uno dei progetti è quello di creare una rivista scientifica, perché un centro di ricerca come il centro studio di Vitruviani deve avere appunto una rivista per arrivare all'esterno della comunità scientifica, sto parlando della comunità scientifica delle proprie attività. Stiamo ragionando anche sul nome, ma credo che entro il 2021, o meno questa è la mia speranza, che entro il 2021 la rivista scientifica del centro studio di Vitruviani possa vedere la luce. Altri progetti sono quelli di una summer school, che è un progetto che c'era già stato in precedenza, ma che adesso cercheremo di concretizzare. Una summer school che si dovrà tenere nei mesi estivi a Fano, proprio a Fano, pandemia permettendo, diciamo siamo ottimisti, quindi speriamo che nei mesi estivi questa summer school si possa tenere, con i membri del comitato scientifico come docenti. Quindi la nostra idea, il nostro obiettivo molto ambizioso è quello di richiamare a Fano studenti di archeologia, di architettura, di idraulica, meccanica, quindi studenti che studiano appunto Vitruvio, potremmo dire, in tutte le sue staccettature, chiamarli a Fano, invitarli a Fano per partecipare a una summer school dedicata appunto al famoso architetto. Perché sono convinto che se per studiare Palladio si deve andare a Vicenza, per studiare Vitruvio si dovrà venire a Fano, appunto per questo legame fortissimo tra Fano e Vitruvio e per l'esistenza del centro studi Vitruviani. Abbiamo anche attivato proprio recentemente delle collaborazioni con due dottoresse di ricerca che si sono addottorati appunto all'Università Politanica delle Marche su studi Vitruviani e si stanno già occupando, hanno già iniziato il loro lavoro, una sul completamento di archeofano, quindi il progetto di carta archeologica di Fano che era stato già avviato in precedenza e che deve essere completato e siamo in perfetta sintonia da questo punto di vista con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con cui collaboreremo in futuro su ogni attività archeologica che sarà fatta a Fano. E poi ci si sta occupando anche del rinnovamento del sito internet, delle pagine social, quindi anche di come il centro studi Vitruviani si pone verso l'esterno, quindi verso la comunità scientifica come dicevo prima e verso tutte le comunità in senso più generale e anche ovviamente verso la città di Fano. Un altro progetto, un'altra idea è quella appunto di coinvolgere sempre di più Fano e la cultura di Fano, soprattutto le persone che si occupano di cultura e le associazioni che si occupano di cultura oggi a Fano e quindi stiamo pensando anche a ricostituire quel comitato tecnico organizzativo che appunto affiancherà il comitato scientifico e il centro studi Vitruviani nelle sue attività. Quindi ecco obiettivi ambiziosi per i quali si spera che nei prossimi anni possono aumentare anche i fondi a disposizione del centro, che attualmente ci sono, ma ovviamente per renderlo sempre più forte si spera che aumentino, però ecco sicuramente per chiedere più fondi bisogna dimostrare che sia concreti, quindi che il lavoro viene fatto, quindi con le attività che faremo si spera di ottenere anche entrate più sostanziose che sicuramente potranno rafforzare il centro studio Vitruviani. Allora, per tutti gli appassionati, per coloro che volessero avvicinarsi al centro studi Vitruviani, in che maniera possono muoversi? Oltre a seguire le attività del centro studi attraverso internet, sicuramente possono anche diventare soci del centro studi Vitruviani. Le modalità di associazione le trovate nel sito appunto internet del centro studi Vitruviani, si può addirittura pagare online oppure si può stipulare un'iscrizione, fare l'iscrizione online oppure chiamate tranquillamente i numeri che sono nel sito e potrete diventare soci del centro studi Vitruviani. Quindi un appello che rivolgo a tutti i fanesi che amano Vitruvio, tutti i fanesi che amano la romanità di Fano, ma non solo, tutti i fanesi che amano la cultura. Tra l'altro ci trasferiremo, fra poco trasferiremo la nostra sede dall'attuale complesso di Sant'Agostino a Palazzo Nolfi, quindi all'inizio del 2021 ci troverete in una nuova sede e potrete diventare soci del centro studi Vitruviani. Benissimo, io la ringrazio Professor Mei per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a voi. E naturalmente ringrazio Riccardo Sora in regia, il centro studi Vitruviani e tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.